Ora Crema per parlare del centro di riabilitazione equestre, la zona di Via Verdi, recentemente dichiarata inagibile e che oggi ha ricevuto un nuovo sopralluogo. Il centro è conosciuto per ospitare la sua attività di ipoterapia da oltre 30 anni, ma purtroppo, soprattutto nei container, le condizioni sono valutate non dignitose per poter lavorare bene con la disabilità. Sabrina Grilli. Un sopralluogo al centro di riabilitazione equestre, dove da più di 30 anni si pratica l'ipoterapia, in vista dell'incontro con i vertici di Ersaf, l'ente che gestisce l'area, e Regione Lombardia, proprietaria dell'area. Il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale e il direttore del CRE si sono incontrati nell'area di Via Verdi, degli ex stalloni dichiarati inagibile. Sgomberati gli uffici dalla sede storica del CRE sono arrivati i container, ma le condizioni nelle quali si trovano a lavorare gli operatori, i volontari, soprattutto i ragazzi disabili, i veri fruitori del servizio, sono inaccettabili. Perché non si può lasciare una struttura e un servizio di questo genere per sei mesi in queste condizioni. Noi vorremmo avere, oltre che le parole dalla Regione, da chi ci ospita pagando l'offitto, vorremmo avere anche delle soluzioni concrete che ci dicano quali sono le zone che potremmo andare a occupare e quali condizioni ci consentiranno di affrontare l'inverno prossimo, che non potranno essere sicuramente quelle di essere alloggiati in due container. La richiesta è quella di trovare una soluzione nell'immediato, entro settembre, grazie a dei lavori di adeguamento minimi che possano rendere più accogliente ed ospitali gli uffici, ora fuori uso. Un incontro, quello che avverrà tra il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi e i vertici di Ersaf e Regione Lombardia, che sarà anche l'occasione per riavviare una riflessione sulla ristrutturazione complessiva dell'area. Un sopralluogo era necessario perché abbiamo una riunione la settimana prossima in Regione con anche Ersaf ed era importante capire lo stato dell'arte dopo l'insediamento dei container. Effettivamente la situazione qui non può proseguire in questi termini per molto tempo, quindi insieme agli operatori del CRE ci si è dati degli obiettivi minimi che sono per settembre ottenere la disponibilità di una sede più dignitosa che non i container e quindi capire le intenzioni di Ersaf e della Regione rispetto a questo servizio e al mantenimento della struttura. Grazie a tutti.